In un potere in campagna va a fuoco tutto, a un certo punto arrivano i pompieri e il capo pompiere esce dal mezzo e fa allora le manichette delle due di qua, poi buttate giù la porta dalla sala, tirate fuori tutto il bestiame poi una certa guardando vede uno a bordo da un lenzolo tutto bagnato che entra e esce da casa e fa lei che fa? Ma lo vede che sta per crollare il tetto? e dice lo so ma dentro c'è sta misocera e dice perché ne ha la porta da fuori? No vado solo dentro a rigirarla